Nuove assunzioni di personale attua grazie all'accordo con i sindacati raggiunto ieri sera. La notizia arriva nel giorno in cui l'azienda in house della regione Abruzzo presenta il piano strategico degli investimenti per i prossimi due anni. Dopo un periodo di polemiche e dopo diversi anni che non si riusciva ad arrivare a una contrattazione c'è finalmente un accordo con i sindacati? C'è un accordo con i sindacati, c'è stato un confronto serrato ma alla fine le posizioni hanno trovato un punto di caduta condiviso e naturalmente ne beneficeranno i lavoratori già presenti in azienda ci sarà per quello che riguarda il part time il trasbordo nel full time e questo avviene contestualmente ai contratti che si sono firmati in questi giorni che hanno visto l'assunzione di 50 da professionalizzare. La seconda parte del contratto che era quella oggetto di polemica e che rivestiva il bando che faceva riferimento ai professionalizzati ha avuto anch'esso una valutazione che alla fine in termini di mediazione ha fatto sì che da un lato l'azienda concedesse su alcune richieste sindacali dall'altro che il sindacati riconoscesse l'abbondà di quello che era il percorso che è stato effettuato. È una cosa importante perché in questo momento creare le condizioni per l'assunzione di oltre 100 persone come avevamo preconizzato e come stiamo facendo diventa un dato in una regione che soffre oggettivamente il problema della disoccupazione di preeminenza oggettivamente importante. TUA, l'azienda di trasporto unico abruzzese, ha presentato il piano strategico degli investimenti 115 milioni di euro investiti che consentono all'azienda di investire su nuove risorse umane e di rinnovarsi per gestire le sfide del mercato. Sostenibilità, innovazione e valorizzazione del personale per rispondere ai nuovi trend della domanda. Il piano è quello illustrato, prevederà il più grande intervento che è stato realizzato negli ultimi anni sia nel rinnovo del parco rotabile Albus, nel rinnovo del parco rotabile Treni, nell'assunzione di conducenti ma anche di non conducenti, erano anni che non si faceva concorso per personale amministrativo. Insomma ci sarà un'immissione di nuovo capitale, quindi nuovi investimenti e il nuovo lavoro, quindi assunzioni soprattutto di giovani. Per quanto riguarda il PNRR, per quanto riguarda il riparto, cosa si prevede? Il riparto è dei grandi investimenti in infrastruttura dove noi saremo soggetti comparse perché se ne occuperanno altri enti. Sul PNRR, riparto investimenti, usufruiremo di investimenti che andranno a potenziare il rinnovo del parco rotabile.